Attivo dalla mezzanotte fra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre l'autovelox fisso in via Bellucci, posizionato poco dopo l'intersezione con via Nicolodi dove sorge il supermercato Famila. Il Velocar è installato per monitorare i veicoli che si dirigono in direzione del centro di Ravenna. 50 km orari il limite di velocità in quel tratto di strada. Nei giorni scorsi si sono concluse positivamente le operazioni di taratura e i test sulla funzionalità. Quattro i cartelli che annunciano la presenza del Velocar ai utenti della strada, oltre ai due cartelli del vigilo urbano posizionati all'altezza del punto di controllo. Nella giornata di mercoledì l'apparecchio ha già registrato le prime contravenzioni, mentre sono stati diversi gli automobilisti sorpresi a frenare all'ultimo per evitare di incappare nella sanzione, probabilmente non ancora abituati alla presenza del rilevatore. 42 euro la multa prevista per chi supera il limite dei 50 km orari, rimanendo però al di sotto della barriera dei 60 km orari. Multa decurtata a poco meno di 30 euro se pagata entro 5 giorni dalla notifica del verbale. Per chi supera invece la barriera dei 60 km orari, sono previste sanzioni di 173 euro e 3 punti sulla patente, per le velocità non superiori al limite di 40 km orari. 543 euro 6 punti sulla patente e sospensione del documento di guida da 1 a 3 mesi per le velocità non superiori al limite di 60 km orari. 845 euro 10 punti di patente e sospensione da 6 a 12 mesi per coloro che vanno ancora più veloce. Via Bellucci, in quel tratto, nonostante la presenza dei semafori per gli attraversamenti pedonali, ha sempre visto i veicoli marciare a velocità ben superiori ai limiti di legge. Purtroppo quella porzione di strada è anche tristemente nota per incidenti.